Dalle tue mani nasce il domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Si rivolge ai giovani nelle cui mani Dio ha messo il dono della vita e l'avvenire della Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco, che nello stadio dei martiri di Kinshasa, nel terzo e ultimo giorno del viaggio, prima di partire alla volta del Sudan, incontra centinaia di migliaia di giovani e catechisti. Sono cinque i passi da percorrere sulla strada della pace indicati dal pontefice, cinque come le dita di una mano a ciascuna delle quali corrisponde un ingrediente per il futuro. Al pollice, al dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera, spiega Francesco, e poi il fare comunità con l'indice, l'onestà, il dito più alto della mano, il medio, e poi con l'anulare il mignolo, il perdono e il servizio. Il Papa inizia il suo discorso nel silenzio dello stadio, ma con il passare dei minuti la partecipazione cresce tanto che fa fatica a parlare, sovrastato dall'entusiasmo della folla. Nel parlare della comunità, Francesco invita a prendersi per mano e intonare un canto. Avete visto che bello sentirsi in una sola chiesa? In precedenza il Papa aveva messo in guardia i giovani da non lasciarsi affascinare dai falsi paradisi egoisti come la droga. Poi, sul tema dell'onestà, ha chiesto a gran voce di scegliere da che parte stare, esortandoli a non lasciarsi imbrogliare nei lacci della corruzione. E' onesta o non è onesta? Fate corruzione. Tutti insieme diciamo fate corruzione. Per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdona, ha continuato Francesco, che ai giovani ha chiesto di stare un minuto in silenzio e perdonare le persone che ci hanno offeso e infine li invitano a scoraggiarsi e andare avanti nella strada verso il futuro. Non scoraggiatevi mai e quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza.